5 Sardai Ciao Nijamichi, oggi vi parlo di uno dei cartoni più fighi della fine degli anni 80, i 5 Samurai, ed è la linea di giocattoli che gli era stata dedicata. Questi giochi uscirono in Italia grazie alla jig in elegantissime confezioni a vetrina. In totale uscirono 11 personaggi, 5 buoni, 5 cattivi e poi Rio con l'armatura dell'imperatore Brilliant, anche se qua viene chiamato Hariel con l'acca davanti. Il che è assolutamente insensato, è chiaro che chi ha fatto questa cosa non sapeva nulla del cartone animato, non si è informato bene. Perché Hariel è tutt'altro personaggio, è quella sorta di sacerdote shintoista che guida i 5 Samurai all'inizio della storia, il suo posto poi viene preso da Demon Redento. L'armatura bianca è l'armatura dell'imperatore Brilliant, cioè è Rio che si evolve e diventa ancora più figo, ancora più forte, grazie a questa armatura bianca. L'unico pezzo non arrivato in Italia della collezione di giocattoli era Fiamma Bianca, cioè la Tigre di Rio. Ma adesso vediamo tutti i pezzi insieme. Ma prima di vedere i giocattoli, vediamo la pubblicità che era uscita all'epoca. Pugni d'acciaio, l'armatura è il segreto della loro forza. I 5 Samurai, pugni d'acciaio, i 5 Samurai, armi magiche, mosse mitiche, i 5 Samurai, i 5 Samurai, i giustizieri del bene contro i demoni delle tenebre, i 5 Samurai e con la fascia da combattimento anche tu Samurai vero, i 5 Samurai Pugni d'acciaio, segui i cartoni animati su Italia 7 da Gig. Allora, cominciamo con Rio, che è il leader degli eroici Samurai. Rio ha l'armatura del fuoco e la sua virtù è la giustizia. Qui infatti viene scritto il capo giustiziere e alleato del fuoco. Allora, vedete che questi giocattoli avevano queste bellissime confezioni a vetrina, che potevamo aprire. Sul lato destro c'era una bella immagine dell'armatura con la descrizione del personaggio, dei suoi poteri, delle sue abilità. E a sinistra c'era la vetrina con il giocattolo. Tutti i pezzi dell'armatura erano smontati ed esposti. Inoltre all'interno c'era in regalo questa fascetta Samurai, come avete visto nella pubblicità che vi ho mostrato. Qui abbiamo in dettaglio la confezione all'interno. Vedete che c'erano dei cataloghi, c'erano delle armi aggiuntive, chiaramente le due spade, le due katana di Rio. Samurai, bestizioni! Justizia! 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 poi passiamo a sami della luce allora vi faccio presente che queste illustrazioni che vedete qui erano un po particolari perché l'immagine a destra è quella del cartone animato infatti è perfetta quella centrale quella a sinistra se guardate bene sono fatte in casa infatti vedete che lo stile è diverso sembrano quasi due personaggi diversi allora vi faccio anche presente che nella vetrina c'era il simbolo del samurai e poi c'era anche un numero i personaggi venivano numerati per permettere al bambino di collezionarli meglio anche se l'ordine che è stato dato ai personaggi non è completamente logico perché in effetti i samurai vengono sempre mostrati con un ordine differente rispetto a quello che c'è qui nelle scapele ma vabbè sono dettagli nerdate assolute io adoro questa serie animata e quindi la conosco bene quando i samurai si trasformavano era sempre in un ordine specifico dunque sami tra l'altro era il personaggio che mi piaceva di più era veramente figo aveva questa katana enorme questo spadone un po particolare il suo potere era la luce quindi era molto figo poi lui era molto furbo molto astuto io ho sempre apprezzato i personaggi così era un po il crystal della situazione se volete infatti la sua virtù è la sensibilità poi passiamo all'amico simo questo era sinceramente samurai che mi piaceva di meno mi sembrava che i suoi commenti fossero spesso fuori luogo e che non fosse particolarmente forte pericoloso minaccioso o intelligente non lo so scusate magari qualcuno di voi si offende ma veramente non mi è mai piaciuto più di tanto per quanto l'armatura era piuttosto bella con questo bel tridentone poi vabbè l'azzurro è il mio colore preferito quindi alla fine mi piacevano un po tutti non posso dire che non mi piacessero tra l'altro simo è il primo samurai che rio riesce a trovare il primo con cui si riunisce ecco c'è da dire che questi giocattoli a mio parere avevano un difetto strutturale e cioè la testa era veramente troppo troppo piccola ora capisco che ci doveva stare l'elmo sopra questa testolina però dai guardateli sono estremamente brutti a vederli così nel senso sono giocattoli fighi però il personaggino con sto testino qui ridicolo è un po bruttino diciamoci pure le cose come stanno dai potevano magari fare una testa intercambiabile così da avere l'elmo o la testa a seconda di come volevamo fare oppure non lo so trovare un sistema per farli un po meglio comunque vabbè per il resto i giocattoli sono estremamente belli la virtù di simo era la fiducia e ora vediamo shido che era veramente un personaggio fighissimo perché lui era rude nel cartone animato era quello che si scaldava più velocemente di tutti e devo dire che la sua armatura forse era la più strepitosa perché aveva questo look molto aggressivo originale mi piacevano tutte queste corna queste punte e poi il nunchaku a tre sezioni era veramente figo e la sua mossa era la più spettacolare di tutte cacchio ma veramente bella ecco shido come virtù aveva la determinazione ecco carina anche quest'idea della fascia da mettere in testa un accessorio per il bambino che si poteva immedesimare un po nei samurai e fare il guerriero queste erano cose davvero carine devo dire che chi ha avuto quest'idea è stato molto molto bravo quando ero piccolo mi ricordo ed uscirono alcuni personaggi dei master con l'anello di gray school ero molto eccitato da questa cosa perché era bello poter indossare qualcosa e sentirsi parte della storia della linea di giocattoli delle avventure dei nostri eroi era molto molto bello portarci con l'inganno a combattere l'uno contro l'altro è stata una mossa infame degna di voi demoni giustizia terminiamo con chimo allora chimo ha come virtù la saggezza e in effetti era il più saggio in effetti si era il più saggio era quello che aveva sempre l'idea giusta che calmava i suoi compagni era molto lungimirante pragmatico ma era un tizio intelligente ed è l'ultimo che viene trovato dai suoi compagni e normalmente è l'ultimo che fa la trasformazione o la mossa quando sono tutti insieme qui viene numerato come numero 3 ma come vi dicevo prima riguardo l'ordine effettivo dei personaggi normalmente lui è sempre il quinto l'ultimo ecco sempre trovato l'elmo di chimo un attimino ingombrante e la sua mossa con l'arco un po deludente rispetto alle altre anche perché non è che si vedeva proprio un tornado che ne sono un uragano qualcosa così si vedeva questa sorta di esplosione dalla punta dell'arco non mi piaceva tantissimo e ora passiamo ai demoni delle tenebre ora chi di voi conosce la storia dei samurai saprà che in effetti i demoni non nascono veramente cattivi e le loro armature fanno parte dello stesso gruppo degli eroici samurai infatti anche loro hanno delle virtù che sono fedeltà clemenza franchezza e tenacia noi invece li conosciamo nella storia come il demone supremo il demone del veleno dell'oscurità e dell'illusione allora ma sempre dato un po di rabbia che demoni si chiamasse così nel senso il demone supremo è uno dei demoni e si chiama demon va bene un po come pegasus della costellazione di pegasus con l'armatura di pegasus o come andromeda che va sull'isola di andromeda che è cagata poteva rimpegnarsi un filo di più ma va bene vediamo il demone rasta il samurai che adora la musica re no dai veramente questo nome non l'ho mai potuto reggere lui era fighissimo ma veramente figo perché era il demone dell'inganno dell'illusione aveva questa armatura che richiamava un po un ragno era davvero molto bello l'elmo era strafighissimo e lui aveva un occhio solo l'altro aveva questa benda era davvero un gran bel personaggio mi ricordo che quando è apparso sono rimasto molto affascinato tra l'altro ha messo subito i samurai in difficoltà era veramente un tizio interessante vedete che anche qua c'erano le fascette sempre rosse quindi non è che cambiavano perché cambiava la fazione poi c'era crana il demone del formaggio grattugiato per la pasta dai io da bambino pensavo subito al grana non ce la faceva non pensarci e vedevo questo demone del veleno e pensavo al parmigiano il grana padano alla pasta mi veniva fame no davvero vabbè lui era bello perché aveva queste mosse tutte collegate al veleno a colpo con le sue spade sembrava una specie di serpente insomma era il fidanzatino perfetto per tisifone l'armatura era bella e lui aveva una miriade di spade mi piaceva anche il suo sguardo assatanato che se guardate bene le immagini hanno riprodotto anche nei giocatori pazzesco e infine c'era kratos il demone dell'oscurità che è sempre quello che mi è piaciuto di meno tra i cattivi lo trovavo un po un po inutile anche se poi i suoi poteri erano abbastanza forti anche lui aveva uno spadone e poi aveva anche questo bell'artigliazzo e tra l'altro se non dico una cazzata era l'unico che aveva il mantello ma se erano tutti piuttosto belli anche se forse i suoi colori erano un po spenti rispetto a quelli degli altri demon ti farò sapere le mie intenzioni quando avrò deciso ora va sì signore rio il fuoco ha abbandonato il vulcano dove speravo rimanesse per l'eternità dobbiamo eliminare gli altri quattro samurai questo sarà il vostro compito qui abbiamo aragon aragon era il capo dei cattivi era il mumra lo scheletro il megatron della situazione era uno spirito malvagio cattivissimo senza volto aveva questa maschera da demone era il signore dell'oscurità qui hanno fatto un disegno senza elmo ma in effetti non ricordo episodi del cartone animato in cui si veda il suo volto celato dietro la maschera o una qualsiasi cosa che somiglia a un volto lui è sempre sempre mascherato perché è una specie di creatura dell'ombra una specie di fantasma però vabbè capisco che nei giocattoli una testa già la dovevano mettere quindi si sono inventati questa cosa ecco aragon vedete aveva una fascetta nera quindi diversa da quella degli altri perché era veramente cattivo inoltre aveva l'anello dei magici poteri vedete c'era un anello in omaggio come dicevo prima per i masters ecco devo dire che l'armatura di aragon è veramente spettacolare poi come vi accennavo prima questa qui è l'armatura dell'imperatore brilliant quindi è l'evoluzione di rio cioè rio acquisisce questa armatura bianca con la quale diventa ancora più forte e praticamente pressoché invincibile non so perché abbiano messo il nome ariel ariel nel cartone animato come vi ho detto è un sacerdote che aiuta i nostri eroi è una sorta di guida non c'è veramente una spiegazione non riesco a capire perché abbiano fatto questo pastrocchio vabbè l'armatura vedete è abbastanza simile a quella del fuoco anche se ci sono piccole differenze anche qua c'è un anello in omaggio diverso da quell'altro ecco infine abbiamo fiamma bianca che si trasforma solo quando appare l'armatura dell'imperatore brilliant da tigre bianca diventa una tigre nera con l'armatura e trasporta le due spade invincibili dell'armatura bianca questa tigre in italia non è arrivata è uscita solo ed esclusivamente in giappone infatti vedete che la confezione è differente e con questo ho terminato spero che questa recensione vi sia piaciuta ringrazio ancora una volta marco olivotto che ci ha concesso le foto della sua bella collezione di giocattoli dedicati ai 5 samurai tutti i giocattoli che avete visto sono della sua collezione buon vi saluto ragazzi alla prossima ciao 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 ciao